Una miriade di combinazioni per stabilire chi tra Foggia, Palermo e Teramo uscirà dai 90 minuti dell'ultima di campionato con il piazzamento migliore. Perché il girone C domenica sera emetterà i verdetti definitivi una volta arrivato il triplice fischio della giornata numero 38. Su tre campi si gioca una piazza, la settima appunto, che garantisce il primo turno tra le Muramiche, così come al Liberati di Terni la formazione dominatrice del torneo, già promossa in Serie B, incrocerà le spade con la Juve Stabia ancora in lotta per la quinta piazza. Ma tornando al Teramo, i Biancorossi dopo il pari di Avellino riceveranno la visita di una Viterbesi a quota 40 e che ha poco o nulla da chiedere ancora la propria stagione, solo che sulla panchina avversaria ci sarà quella Genore Maurizzi, grande ex del match che nel 2019 con l'avvento della gestione Iachini sperava di poter conservare quel posto che andò poi a Bruno Tedino qualche settimana dopo. Il Diavolo a 49 punti, a meno uno dalla coppia Foggia-Palermo, deve fare bottino pieno e sperare nei risultati degli altri due scontri. Quello più difficile ce l'ha certamente il Foggia, che allo Zaccheria con parecchi problemi di formazione riceve la visita del Catania, che a pari punti con la Juve Stabia battaglia per la quinta posizione con gli Etne in vantaggio negli scontri diretti con le Vespe. I satanelli di Marchioni, reduci dalla debacle del Menti di Castellammare, hanno il migliore piazzamento attuale, perché avanti al Palermo sempre negli scontri diretti, ma non sarà facile difendere la posizione. Cosa che invece sembra compito più agevole per il Palermo, che come il Teramo ha un match contro una squadra, la Virtus Francavilla già salva e che comunque vadano le cose non potrà migliorare la propria stagione. Il centroavanti Luca in fase di recupero, Filippi con tre punti sa già, che finirà davanti al Teramo, che potrebbe essere accoppiato proprio col Palermo, qualora vincesse e il rosa-nero non perdessero e qualora il Foggia non dovesse fare bottino pieno tra le mura amiche. Poi ci sarà da capire dove il Teramo, che in vantaggio con Foggia e Palermo negli scontri diretti, affronterà la prima gara. Se invece gli avversari dovessero tutte vincere, ecco allora che per i bianco-rossi ci sarebbe certamente il turno in trasferta con Catania o Juve Stabia. Tutto in 90 minuti dunque, col Teramo che sarà privo dello squalificato Trasciani e certamente anche di Diachitei in difesa. Rientra Tentardini dopo i tre turni di squalifica e torna ad occupare la fascia Mancina mentre a destra. Potrebbe essere confermato Piacentini, ma a quel punto ci sarebbe spazio per l'esordio del giovane Bellucci. Oppure si potrebbe tornare ad un assetto tradizionale, con Vitturini a destra e la coppia Piacentini soprano al centro. A centrocampo invece Pace ritrova Santoro con Arrigoni, che deve però stare attento ai cartellini, perché in diffida come Mungo e lo stesso Vitturini. Tutto prima della serata che darà i verdetti conclusivi di un campionato dominato dalla Ternana e che vedrà nella post-season le 28 partecipanti con l'undicesima del Girone B, che andrà a comporre il lotto delle pretendenti al quarto slot per la categoria.